Buongiorno ragazzi, come avrete capito dal mio colore siamo giunti alla mia prima gara di bodybuilding per la precisione nella categoria Man Physique la gara è il primo trofeo Tino Montanara organizzato da Garage Training oggi è il 30 giugno 2018 cercherò di portarvi in questa giornata assieme a me e vediamo cosa riesco a fare voglio approfittare delle riprese fatte nel backstage per fare questo voiceover e spiegarvi alcune cose in merito alla gara alla mattina sono stato assegnato in base all'altezza nella categoria Man Physique Tall ovvero la categoria dei Man Physique alti specifico che non sono alto ma ero esattamente nel mezzo delle due categorie ovvero Tall e Small innanzitutto come potete vedere in questa competizione era messo l'utilizzo del mallo ovvero la sostanza scura che il grandissimo Michele Rigon mi sta per applicare se non lo sapete Michele è un grandissimo insegnante di posing per ciò che riguarda questa disciplina lo scopo della mallatura è, se non fosse chiaro, l'effetto di risalto muscolare che si ottiene sotto i riflettori come saprete già per questa gara mi sono preparato da solo con un allenamento in stile power building e un'alimentazione definita in base ai macro per l'esattezza nell'ultimo periodo ero a 2200 kcal quindi non ho fatto certamente la fame aggiungo di non aver fatto pratiche disumane come rimanere senza acqua nei giorni precedenti da gara purtroppo in giro si sente anche questo la scelta di gareggiare nel Man Physique è stata dettata più che altro dalle mie proporzioni e linee corporee sul suggerimento sempre di Michele l'aiuto esterno alla preparazione di questa gara che ho avuto è stata una lezione di posing con lui e ovviamente la mallatura il resto l'ho gestito da me il posing del Man Physique è totalmente diverso dal bodybuilding classico viene definita infatti una categoria estetica il chi è già buffo per me che non mi considero certamente un madone fisicamente il Man Physique conta moltissimo la V-shape ovvero il rapporto tra spalle e fianchi a tal proposito importantissimi sono i deltoidi e il gran dorsale e ovviamente una vita molto stretta il gran pettorale non deve essere esagerato e non bisogna ricercare una definizione da bodybuilder voglio spendere anche due parole in merito al garage training ovvero la palestra che ha organizzato questo trofeo è una realtà del vicentino estremamente seria e importante a livello sia di bodybuilding che di strength training non solo in Italia ma anche a livello internazionale infatti è anche sede della maggior parte dei corsi nazionali di Stormfirst la scuola fondata da Pavel Zazzoli e di cui Fabio Zonin è il CEO uno dei due proprietari è Stefano Travaglini, campione di natural bodybuilding mentre l'altro è Massimiliano Montanara, una persona fantastica sottolineo che il trofeo è stato dedicato al padre di quest'ultimo che è recentemente venuto a mancare infatti quando ho saputo di questa gara e di ciò che rappresentava per Max non ho potuto tirarmi indietro dal partecipare quale occasione migliore per iniziare questo fantastico percorso e fu così che divenni afro una volta preparato ho fatto il cosiddetto pumping prima di salire sul palco è una pratica essenziale per arrivare in gara pieni a livello muscolare infatti si cerca di far affluire un'adeguata quantità di sangue i muscoli esattamente come avviene in allenamento per risultare più ipertropici tipicamente nelle gare bisogna portarsi il materiale per fare questa pratica in questo caso ci ha pensato il garage a fornire alcuni manubri come potete vedere ha partecipato alla gara anche la mia atleta Elena vi spiego anche come funziona questa tipologia di gare prima ci sono le pose obbligatorie assieme agli altri atleti ovvero frontale, laterale destra, schiena, laterale sinistra e nuovamente frontale in questa fase si viene confrontati con gli altri ed è possibile che i giudici chiedano di spostarsi di posizione per paragonare due atleti su cui abbiano delle indecisioni successivamente si fa la t-wall ovvero l'esibizione da soli in questo caso bisognava raggiungere 4 punti del palco e fare determinate pose per ognuno vi avverto già che il mio posing lascia il quanto a desiderare quindi fatevi pure 4 risate 11 a domani in tardo 15 azzone chi ritmo 24 a noi di San Luca e 26 a noi di Alessandro schiena si vecchio anche spalle ora di nuovo fronte alla giuria 11.15 scappiamo sul riposto 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 12.15 scappiamo sul riposto Grazie a tutti. 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 Grande. Grazie a tutti.